Il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri continua a essere lo specchio del paese. Quello dell'edizione 2023 affronta un tema quanto mai attuale di interesse generale, come la salvaguardia dell'ambiente, illustrandolo con lo stesso linguaggio dei suoi lettori e sollecitando le generazioni a pretendere di vivere un futuro migliore. Un appuntamento significativo da quasi un secolo di vita che si è svolto questa mattina nella sede provinciale dei Carabinieri, in cui è stato illustrato il nuovo calendario che presenta per ogni mese un tema diverso a sostegno dell'ambiente. 12 storie raccontate da un grande nome del giornalismo ambientale come Mario Tozzi, accompagnate da immagini forti e iconiche realizzate dall'agenzia Armando Testa e capaci di cogliere l'attenzione dei lettori colpendoli nella coscienza. Un argomento che ci sta a cuore, che è tutta l'amministrazione e che ci permette di dire con l'acquisizione del corpo forestale, quindi è diventato come ruolo forestale, ora la polizia ambientale più grande del mondo. Quindi un grande interesse, come è stato certificato anche dalla modifica della Costituzione italiana, quindi di grande interesse per tutto il nostro Stato, per tutta la nostra popolazione, quindi l'impegno dell'arma è quotidiano in quest'ambito. Ma negli anni l'arma si è sempre strutturata sin dalla sua fondazione, quella che è la tutela dell'ambiente, quindi anche sin dal 1816, quindi più di 200 anni fa, c'era la possibilità, due anni dopo la sua fondazione, già uno dei compiti era quello di tutelare, di tutelare quelle che erano le foreste, i boschi, da chi ne voleva approfittare. Poi nel tempo, logicamente, si sono strutturati dei reparti specifici, siamo partiti con il nucleo operativo ecologico, con il comando carabiniero e tutela agroalimentare, quindi per la tutela delle denominazioni di origine controllata, dei DOC, DCG, DOP, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi anni abbiamo avuto l'acquisizione del corpo forestale dello Stato, che è diventato un ruolo carabiniero e ruolo forestale, quindi che ci ha permesso appunto di avere una competenza a 360 gradi nell'ambito della tutela ambientale, tutela degli animali e la tutela della biodiversità. A 360 gradi è anche l'impegno che l'arma dei carabinieri riversa nelle operazioni volte alla prevenzione e repressione di reati ad impatto ambientale. Logicamente non possiamo mai dimenticare che dobbiamo sempre fare vigilanza, quindi l'attività è quotidiana, sia da parte nostra come stazioni territoriali, che da parte del ruolo forestale, delle stazioni della forestale, che svolgono H24, un servizio di vigilanza su tutto il territorio, non soltanto appunto nel parco, ma in tutta la nostra provincia, che necessita di una maggiore tutela, proprio perché è dal punto di vista ambientale molto bella, quindi molto ricca, quindi necessita di un maggior impegno.